ci troviamo a strevi in provincia di alessandria nell'alto monferrato in particolar modo qui siamo nella valle bagnario questo è il nostro vigneto di produzione dell'uva brachetto che utilizzeremo poi per la spumatizzazione del nostro brachetto extra dry in particolar modo qui il terreno è un terreno sabbioso che è perfetto per l'estrazione degli aromi che caratterizzano appunto questa uva aromatica la valle bagnario è una valle famosa per la produzione di vitigni aromatici quali brachetto e moscato che da tempi hanno trovato qui nel terroir le caratteristiche perfette per l'estrazione dei loro profumi